carissimi ragazzi ci troviamo con questo nuovo video mi raccomando mettete un bel mi piace per cominciare e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto oggi vi farò vedere un glitch per fare un bel po' di soldi con l'apaccio 1.17 ed è molto semplice da fare la prima cosa è dirigervi verso un negozietto dove si comprano a birre le cose la seconda cosa dovete mettere il logo di rientro ultima posizione e come potete vedere nel video ultima posizione dopo rientrare dentro cioè entrate dentro il negozio fate la rapina sparate un pochettino ovunque per intimidirlo e fare più veloce così vi da pure anche più soldi vi avvicinate a lui e quando appena quando finisce quasi quasi finisce gli date un colpo sulla testa e premete subito la freccetta destra così vi da più soldi appena avete finito vi darà due stelle scappate uscite dal negozio scappate dall'altra parte del del negozio non entrate in macchina d'altra parte di fronte al negozio premete start appena vi scompaiono le stelle cioè siete sempre ricercati però non vi trovano e premete start andate sull' xbox game store o playstation store ed entrate appena siete entrati dentro l' xbox game store premete cerchio e tornate indietro cioè uscite dall' xbox game store come potete vedere quando ritornerete sulla città quando ritornerete su git online vedrete che il negozio sarà di nuovo aperto quindi voi potete ripetere questo glitch fino all'infinito giustamente non vi darà tantissimo però è molto semplice da fare non c'è bisogno di un amico quindi cosa volete più della vita e poi questi qui sono i primi glitch perché ancora io non ne conosco quindi che vi posso dire in questo caso quando l'ho fatto io cioè ora ci metto un pochettino di tempo non lo so perché comunque quindi ci metterà ecco quando siete di nuovo spawnati potete vedere che il negozio è ancora aperto e cioè è aperto e si può di nuovo rapinare voi entrate dentro fate di nuovo il glitch in questo caso io ho sbagliato cioè proprio sbagliato di grosso ecco qui guardate io l'ho ucciso non dovete sparare come ho fatto io ma dovete avvicinarvi e tagliare un colpo alla testa perché se no non funziona bene il glitch quindi per questo video è tutto mi raccomando mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo con un prossimo video iscrivetevi al canale